è che state sbagliate 60 anni sto voglio sono loro, che mi possono fare sbagliare mentono, mentono e poi i sondini mi dicevano no signor, sei da qui non supporti più, sei da qui andai a casa di qui ma sei da un'altra ora ho tutto il canzone di prima che mi sono voluto mamma che mi sono voluto non mi sono voluto mamma che sono mi piace è già gucita guarda gucita c'è fai chino, sei da qui sei da sbagliare, sei da qui ma sei da qui la mamma è gelosa del figlio maschio ecco perché la nuora e la suocera si schifano a l'onda ma magari qua c'è qualche nuora seduta vicino a qualche suocero dice no ma non la d'arretta perché lui ti dice posso farlo? io voglio mettere la curiosa vita io vi tengo appeso in canna voglio dire è così non c'è niente da fare ma mettiamoci mettiamoci per un momento nella testa di una mamma una mamma che ha fatto un figlio e dice già cresci la va? non figlio fino ai 40 anni è bello come io so mangio fatti i sacrifici, mangio fatti la bocca e nuttate i frevisi e su posti nata chi pedì? faceva cacca 4 o 2 uori faceva ogni cacca che sta facendo le spurghe e non ci volevo mangiare ma cacca il sacrificio è nuttato un'angere muta per questo ma il sacrificio è questo posto poi arriva una cosa tanto che è zizza fa un po' questo uomo è mio che ha migliato e che ha iscrivato il tuo figlio a me tutto da qua a parte è la verità la mamma è gelosa ecco perché tutte le cose negative che succedono al figlio è colpa la tua non ce l'aveva canù quando la domenica vanno a mangiare a casa la mamma guarda la moglie la mamma si mette in me guardate che tu vorresti canù era bello come io so tenete i capiti su un po' cazzurro mi sono tenati che la disgraziata ha fatto caretta e capilato perché non è pensiero un po' le bulle tra la luce un po' le bulle tra la luce un po' le bulle tra la luce ha fatto caretta e capilato ma tipo di mangiare il scopo si è fatto sì così perché la disgraziata fa la dieta capi? fa la dieta andate a fare la dieta oh figlio a me o fa mangiare anzalata capisce? l'ansalata oh figlio a me che l'è anzalata? un alimento inutile è l'euro si mangia le bucurie e le leva capisci o i gregers o i figli di me i figli di me parlano con rispetto quando si va a casa di mamma si mangiavo lì le mancarose si fanno piersi si fanno caffonati guardate la papà raccontano figure e non volevo le fassino è una battaglia persa da qui nasce il fenomeno bambocciore perché poi esiste il fenomeno bambocciore perché i politici si sono divertiti a chiamarli bamboccioni se sono proprio i spaziati addirittura l'ex ministro Brunetta saluto a Don Schfizzer e chiamà bamboccioni Brunetta mi chiama bamboccioni tu puoi fare ciccio bene un uomo che ha dovuto cambiare città Brunetta era di Venezia ha dovuto cambiare città perché ogni volta che c'era l'acqua alta rischiava di affogare non vuoi dare me la tua bracciola non vuoi dare la ciampella non vuoi dare i piatti mi capisano non vuoi dare io ti faccio tutto da riciccio ce l'ho fatto neanche io